Salve, oggi la chiesa ricorda un monaco, San Charbel, Charbel Maglouf. San Charbel, era un monaco che aveva un motto particolarmente interessante e strettamente evangelico, biblico. Il motto della sua vita era questo, pregare senza interruzione. Lo ha detto e lo aveva detto anche San Paolo, bisogna pregare sempre, lo dice anche San Luca, bisogna pregare sempre senza interruzione. Come fosse facile. E come si fa a pregare sempre senza interruzione? Bisogna studiare, bisogna andare a scuola, bisogna cucinare, bisogna andare a vedere la partita di pallone, bisogna andare a farsi una partita a carte con gli amici. Come si fa a pregare sempre all'interno di una storia? Qual è la nostra storia piena di impegni, di appuntamenti? Qual è la saggezza dei santi? La saggezza dei santi è nella capacità di possedere la loro interiorità senza smarrirla mai. La preghiera è nella gestione della motivazione. La preghiera è nella gestione della ragione del mio comportamento. Si tratta di fare le stesse cose che facciamo normalmente dall'alba al tramonto. Si tratta di fare queste cose con intelligenza, con applicazione, con volontà, con attenzione.